Cari amici, salve e ben ritrovati. Visto che manco da un po' sul canale, forse qualcuno di voi lo avrà notato, ho pensato di dedicare questo video a fare un po' il punto della situazione, o meglio, per cercare di spiegare attraverso poche parole, e spero anche semplici parole, la filosofia di fondo che c'è dietro questo canale, qual è lo scopo, e per che cosa io e quelli come me combattiamo, e mi auguro anche molti di voi. Ebbene, ho già spiegato alcune cose in altri video che potete cercare qui sul canale, ma il punto centrale quale? Ebbene, il punto centrale si basa sul fatto che noi viviamo in un sistema, in un sistema meccanico, in un sistema tecnico, che tutto assorbe, tutto trasforma in un suo ingranaggio, in un suo strumento, in qualcosa che deve sfruttare al massimo, spremere fino all'ultima goccia e poi buttare via. Ecco, guardatevi intorno, guardate il sistema sociale in cui viviamo e vi accorgerete subito che è così. E attenzione, non mi riferisco semplicemente soltanto al sistema statale in cui viviamo. Sarebbe troppo semplice metterla soltanto su questo, da questo punto di vista. In realtà intendo tutto, intendo la macchina della comunicazione, gli ideali che circolano in questa società, il consumismo assurdo, questa ossessione per la salute, per il vivere per sempre felici e contenti, per essere sempre nei fatti, in un mondo che non esiste. La nostra testa vive in continuazione in un mondo che non esiste. Tutto questo su perché? Ecco, qual è la domanda principale? Perché? La risposta è perché questo sistema deve espandersi sempre di più. Questo sistema vive di paura, questo sistema si alimenta di paura. È qualcosa che ho spiegato già nel mio libro che si intitola proprio Liberi dalla paura, ma anche nell'altro mio libro, manuale di resistenza al potere. Ebbene, il sistema cosa fa? Crea paura in modo da assoggettare, da rendere sempre più dipendente le masse da lui. È una tecnica, è un sistema, è un meccanismo. E attenzione, in molti tante volte pensano, e pensano in maniera anche un po' eccessiva questa cosa, che al vertice di questo sistema ci siano dei tizi incappucciati o qualche gruppo che cerca di governare il mondo e via dicendo. Ebbene, nulla di tutto questo. Il sistema si alimenta da sé. E vi dirò una cosa che ho spiegato tante volte anche nei miei libri e in altri video. Anche coloro che sono al potere sono a loro volta schiavi di questo sistema. Sono parte degli ingranacci, sono degli ingranacci di fatto. Magari con una vita apparentemente più comoda, perché anche lì poi bisogna vedere, perché se vi è capitato, se un giorno vi dovesse capitare di parlare con dei ricchi, vi accorgerete che sono nei fatti tutti scoppiati. Banchieri, imprenditori, manager. Sono al limite della pressione. Ed è normale, perché sono anche loro esseri umani. Anzi, sono esattamente come noi. Si ritrovano anche loro in questo processo, in questo meccanismo, in questo tritacarne. E infatti è importante anche parlare con loro, non escludere loro. Far capire questo a tutti, perché riguarda tutti. È un meccanismo che abbiamo creato pensando di poterci salvare, di poter salvare la nostra esistenza e di poter vivere per sempre felici e contenti. E in realtà ci siamo ritrovati e ci ritroviamo tuttora in questo mostro che in realtà ci consuma, ci distrugge. Certo, magari all'esterno possiamo avere il bel vestito, possiamo fare la vacanza, abbiamo qualcosa da mangiare, abbiamo un tetto e così via. Qual è il prezzo? Il prezzo è la nostra vita. È la vita che si svuota di qualsiasi senso. Tutti sono depressi oggi, chi più chi meno, tutti. Tutti hanno un malessere interiore forte oggi, tutti. Se vi capita di passare in una farmacia e magari siete un po' in confidenza con il farmacista o comunque con il proprietario di una farmacia, ebbene, se andrete da lui o da lei, dal farmacista o dalla farmacista a chiedere quali sono i medicinali che vendono di più, beh, rispondono gli psicofarmaci. Perché? Perché questa società ti schiaccia, ti distrugge, ti annienta, ci ossessiona in continuazione. Perché le persone corrono a comprare le cazzate in continuazione, no? Negozi strapieni a vendere scemenze, completamente inutili. Perché è una droga. Lo shopping è una droga. E tutto questo cosa fa? Non fa altro che alimentare ancora di più la nostra dipendenza verso queste cose. Infatti poi non si accetta più la morte, la sofferenza, un problema, nemmeno la vecchiaia. Nemmeno la vecchiaia. E quindi ecco la rincorsa ancora di più verso i servizi del sistema che si alimenta ancora di più di tutto questo. È un mostro. È un mostro gigantesco che ormai vive di vita propria. E infatti non è un caso che sta iniziando a creare questo sistema anche la propria intelligenza. Finora ha sfruttato gli uomini e adesso inizia addirittura a creare una propria intelligenza, l'intelligenza artificiale, in modo che questo automatismo, che questa macchina possa proseguire ancora in maniera ancora più efficiente, ancora più efficace. È questo ciò in cui noi viviamo. E allora, perché lo stoicismo? Perché lo stoicismo è la soluzione a tutto questo? Perché lo stoicismo annienta la benzina con cui si alimenta questo sistema, e cioè la paura. Senza paura, se le persone domani mattina si dovessero svegliare senza paura, ebbene, non correrebbero più a comprare cazzate a raffica, no? Oppure non andrebbero più dietro alle illusioni, ai vari cantatori, incantatori di serpenti e così via. Non andrebbero più nemmeno dietro a cose che illudono le persone della salvezza eterna, della salute per forza e così via. Iniziereste anche ad accettare la realtà per quella che è. Ecco dove arriva poi, ad un certo punto, la forza dello stoicismo. E senza questa ossessione per la paura, il sistema di cosa si alimenterebbe? Di nulla. Di nulla. Allora, ad un certo punto, iniziereste ad accettare anche di più il vivere secondo natura, in maniera naturale. in maniera libera, in maniera anche in diretto contatto con la natura. Ma questo comporta una sofferenza, un dolore, perché vivere in diretto contatto con la natura è faticoso, fa male. Ecco perché serve una filosofia di fondo forte, virile nel senso sano del termine, che è in grado di poter dare forza e coraggio in continuazione, ad accettare anche la sofferenza. Ecco la grandezza dello stoicismo, in maniera anche da tornare ad accettare di vivere in piccoli gruppi, in comunità più piccole, con tutti i difetti naturalmente che questo comporta. Ma è qui di nuovo la grandezza dello stoicismo, perché ricordiamoci che noi siamo esseri sociali, non possiamo vivere in maniera separata dal mondo, abbiamo bisogno di un gruppo di persone, abbiamo bisogno di tante persone intorno a noi. Non a caso noi non abbiamo paura, non proviamo paura quando ci sono persone accanto a noi, ci sentiamo più forti, perché noi biologicamente siamo fatti così, biologicamente siamo esseri esseri che hanno bisogno di un gruppo, di una propria tribù. Ma se questo gruppo diventa eccessivo, diventa massa, ebbene lì di nuovo torniamo a sentirci inutili, di nuovo torniamo a sentirci atomo. Ecco perché la soluzione a tutto questo è lo stoicismo, quindi una filosofia potente in grado di farci accettare la sofferenza e il dolore, legata ad una vita più semplice e a un mondo creato che si basa su piccoli gruppi. Quindi la bellezza di ritornare anche a vivere tra i paesi. Io con questo ho finito, riprenderò tutti i concetti ovviamente più avanti, spero vi sia piaciuto, scrivete nei commenti i vostri pareri e noi ci vediamo alla prossima. A presto.